Notte di maltempo e disagi per la Campania. A Napoli i forti temporali si sono abbattuti nella notte causando blackout in diverse zone della città e allagamenti. L'abbondante caduta di pioggia ha creato problemi alla stazione della metropolitana di piazza municipio per infiltrazioni di acqua. Danni anche su alcuni tratti della rete ferroviaria dove i ritardi si sono verificati sulla linea dell'alta velocità della Napoli-Salerno e Cassino-Napoli. Ma RFI, la rete ferroviaria italiana, fa sapere chi ha già mandato le squadre tecniche per riparare i guassi e ripristinare le normali condizioni di circolazione. La situazione è preoccupante anche a Caserta dove sono stati segnalati sottopassi allagati, auto in panne sommerse dall'acqua, garagi inondati. Il lubifraggio delle scorse ore ha allagato tutte le strade cittadine ed il sistema affognario è andato in tilt. Al momento la galleria della reggia di Caserta sulla variante Anas che collega Santa Maria Capoavetere al capoluogo è chiusa ed il traffico è deviato nella frazione di San Leucio. Il maltempo ha provocato forti ritardi anche nel Saleritano sulle linee in direzione della Calabria e sono stati circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco. Disaggi anche a Positano, in costiera amalfitana e sul raccordato stradale Salerno-Avellino, le cui carreggiate sono state interessate da un forte temporale. Ad Angri e Nocera Inferiore restano chiuse nella giornata di oggi le scuole. Nel Beneventano e nell'Avellinese sono state segnalate colate di fango, soprattutto a Montoro dove decine di famiglie del posto sono state costrette ad evacuare. Ad Avellino città alcune strade del centro sono diventate fiumi a causa dell'intasamento dei tombini e dei canali di scolo. L'allarme di colore arancione della protezione civile della regione Campania è scattato ieri e durerà fino alle 20 di stasera.